Musica Approfondisci argomenti scientifici extracurricolari e metti in campo le tue competenze pratiche prendendo parte ai laboratori lauree scientifiche di fisica, matematica e chimica. Inoltre scopri nuove frontiere e applicazioni della tecnologia con l'attività di robotica educativa. Fai pratica con gli strumenti e realizzati esperimenti in prima persona. Con i laboratori sperimentiamo le scienze e il progetto lab di chimica e biologia. Aggiungi il tuo ai successi già conseguiti dalla nostra scuola quali la partecipazione alle fasi internazionali degli olimpiari della cultura, dell'astronomia e ai campionati di ballatura. Per chi vorrà mettersi alla prova, la competizione su scala nazionale in ambito scientifico e umanistico è aperta. Partecipa a un'idea di giochi e gare sulle teste con l'aiuto unico dell'oggetti. La competizione sulle teste con l'aiuto unico dell'oggetti. Proponiamo corsi in anni di scolastici e extrascolastici che spaziano dalle lingue alla filosofia e dall'economia al pronuncio corso. Iscriviti al corso di logica se vuoi produrre le qualità dell'aggiornamento o se vuoi comprendere le dinamiche socio-economiche partecipa al corso di economia politica. La competizione sulle teste con l'aiuto unico dell'aggetti. 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 Scopri nuovi mondi attraverso gli scambi culturali oppure vivi un'esperienza formativa a 360 gradi all'estero grazie al progetto Erasmus Digital Plus. C'è stata la ricerca di sfide internazionali, vesti e banni di un delegato OEM nella sede delle Nazioni Unite ottenendo un posto per l'esplosivo progetto MUN. La competizione sulle teste con l'aiuto unico dell'aggetti. La competizione sulle teste con l'aiuto unico dell'aggetti. La competizione sulle teste con l'aiuto unico dell'aggetti. Grazie a tutti